Pronto? Mamma Eh, ciao, dimmi Eh, ascoltami, guarda che stasera non torno a casa Perché? Perché sono in aereo Ma dove sei? Sono in aereo, ma pensa Ma dove vai? A Barcellona No, ma tu, ma perché? Così, volevo cambiare aria, no? Tu, ma così, improvviso, con chi vai? Poi ti racconto Vabbè, Martina, sicuro Ma, Martina È tutto a posto? No, no, ovvio che è tutto a posto Cos'è che non dovrebbe essere a posto? No, non lo so, cioè, sei partita Tu, dai, quando sei letto, quando torni Non lo so, non ho prenotato il ritorno Martina, ma stai parlando seriamente? No, ma ti invio la foto se vuoi Ma dove stai andando? A Barcellona Ma chi è che ride? Vabbè, l'agentino aereo Oh, non piangi, mamma Senti la voce Non piangere No, non sto chiedendo Ah, ok Dopo ti invio il numero del aereo, dai Ok E mi spieghi qualcosa in più quel messaggio, dai Va bene? Va bene, ok, ciao Ok, ciao Ciao